Ci troviamo in via Principe Amedeo e i cittadini si lamentano per il fatto che la linea 8, il numero 8, accumula pesanti ritardi. È oltre mezz'ora che di questo bus non v'è traccia. Signora, da parecchio tempo si attende e non arriva l'otto? Non arriva l'otto, è mezz'ora che stiamo aspettando qua per l'otto. È assurdo, siamo in pieno inverno? Non è prima volta che accade. Eppure c'è una tabella che dovrebbe portare gli orari? Con gli orari, dovrebbe. Da oltre mezz'ora nulla? Niente, come di fatto c'è gente che sta andando via, che sta camminando a piedi. Dopo che dobbiamo fare il biglietto? E poi dobbiamo stare mezz'ora per aspettare il colmo in città? Beh, ci dispiace, ci dispiace e tireremo le orecchie in maniera molto forte, sempre in senso metaforico. A tutto Chima Mobilità Amat, loro se la profumano tanto, parlano dei nuovi collegamenti, delle nuove linee futuristiche, la mobilità sostenibile e poi ci si perde in un bicchier d'acqua e poi un normalissimo, un misero bus tarda ad arrivare e fa sì che i cittadini debbano superare la mezz'ora, se non più, di attesa. È una vergogna. Spalluto, presidente del CDA di Chima Mobilità Amat, tutto il CDA, consiglio d'amministrazione, consigliere Lonocce, consigliere comunale, incaricato, delegato alle società partecipate. Ecco, vedete quello che accade, vedete i ritardi, i ritardi, i ritardi e i ritardi. Qui in via Principa Medeo, traccia dell'otto non v'è e abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora. Vedete? Era un falso allarme, questo è il numero 20, ma l'otto ancora non arriva. Vergogna, vergogna, vergogna. E questa è la città che sta rinascendo. Lotto non passa, mezz'ora, c'è un disagio e dice giustamente, l'operatrice non ha colpa, poverina, ci mancherebbe altro. Un disagio, c'è un disagio, Taranto è tutto un disagio, è una città sinistrata, disastrata. Questi sono i nostri amministratori e questi sono i risultati. Tarantini, avete voluto Melucci? Tenetevelo ora!